Ciao a tutti, oggi siamo su Europa Universalis 4, un gioco della Paradox e giocheremo con Savoia, proviamo a formare l'Italia, cosa ormai vista, rivista, però ci si prova. Giochiamo in Iron Man, il mio obiettivo sarebbe di farmi alleate subito almeno due superpotenze del Mediterraneo tra Castiglia, Aragona, Francia, Austria e Ungheria e andare prima su Genova o su Milano, dipende da chi ci converrà e poi vabbè andare. Allora iniziamo mettendo i rivali, abbiamo come nemici naturali del nostro Ducato, abbiamo Ordine Teutonico, Provenza e Svizzera, allora vabbè la Svizzera è sta merdina qua, Provenza vabbè qua che però ha anche un paio di province, ha Barroa e Angio e anche dei vassalli se non sbaglio, la Lorena, che ha due province, vabbè abbastanza inetti, però probabilmente si alleranno subito con la Francia e andranno contro la Borgogna a farla esplodere, quindi tanto devo abbassare un attimo, no? Ok, allora poi gli altri erano l'Ordine Teutonico qua sopra, quindi metterlo come rivale vorrebbe dire farsi amici Polonia e Lituania, la Lituania nel giro di dieci anni neanche diventa un junior partner della Polonia, quindi ovvero diventa suo vassallo, quindi la Polonia potrebbe diventare un ottimo alleato anche in chiave anti-austriaca, perché l'Austria poi prenderà Ungheria e Bohemia, e l'Austria, ricordiamo, è imperatore del Sacro Romano Impero, l'imperatore è austriaco, e qua ci sono tutti i vari stati che eleggono l'imperatore, gli elettori, i principi elettori. Noi adesso facciamo parte dell'impero, se non sbaglio, sì, fino al 1490, dove c'è lo Shadow Kingdoms, dove in pratica c'è la rivolta degli stati, delle città del centro nord Italia contro l'imperatore. Quindi, allora dicevamo, mettiamo rivali, direi ordine teutonico per migliorare le relazioni con la Polonia. Poi, direi anche, direi Genova e Milano. Bene, abbiamo come vassallo il Monferrato, che presto annetteremo, però mi sembra che servono dieci anni, influenza, sì, mia opinione è almeno di 190, ma quelle si migliorano tranquillamente, e dobbiamo aspettare il primo gennaio del 54, ora siamo a novembre. Allora, qua cosa c'è? Successione contesa, minchia, pochi paesi, vabbè, ma tanto poi si risolvono sempre quei problemi. Abbiamo un buon duca, un erede inetto ma non troppo, perché ha zero di abilità militare, che è un po' schifosa. Allora, in pratica questo gioco si basa su tre poteri, quello amministrativo, quello diplomatico e quello militare, che poi si vedono anche qua sopra. E noi abbiamo un guadagno mensile di sei punti di potere amministrativo, otto punti di potere diplomatico e cinque di militare. Questi poteri servono per molte cose, allora innanzitutto per lo sviluppo delle tecnologie e anche delle dottrine. Le tecnologie ovviamente migliorano quelle militari, la qualità dell'esercito, le tipologie di truppe, poi adesso abbiamo soltanto cavalleria e fanteria, perché siamo nel 1444. Poi alla Tec 7 militare, se non sbaglio, sblocchiamo l'artiglieria. Sì, alla 7, sblocchiamo l'artiglieria. E poi pian piano sblocchiamo anche nuovi tipi di cavalleria, di fanteria sempre più moderni. E abbiamo anche dei boost alle varie armate, tipo adesso alla Tec 4 militare avremo tattiche militari più 0,25% e morale dell'esercito più 0,50%. Che fidatevi fanno la differenza. Io mi son trovato una partita in cui avevo la Russia, avevo la Moscovia che poi è diventata Russia, avevo conquistato tutto qua, tutto tutto tutto, avevo distrutto, ero andato anche ad Est. E poi sono entrato in guerra contro la Danimarca. Ovviamente la Danimarca parte con due vassalli, tre in realtà, Holstein però lo annette subito, la Svezia e la Norvegia. La Svezia 99 su 100 si ribella, perché è così che poi farà storicamente, diventerà indipendente, anche perché basta guardare la Danimarca, la Svezia. Vabbè, io avevo supportato l'indipendenza della Svezia, avevamo vinto la guerra e poi mi c'ero alleato. Dopo un po' la Svezia non è entrata in una mia guerra difensiva, quindi abbiamo rotto l'alleanza e quindi la Danimarca, che poi nel frattempo si è alleata con gli ottomani, ha deciso di attaccare la Svezia, fatta esplodere. Poi allora, anch'io ho deciso di attaccare la Svezia e l'ho fatta esplodere. Però poi, il fatto a cui volevo arrivare è che la Danimarca aveva la tech militare 14 o 15, non mi ricordo, io avevo soltanto la 11-12, quindi ero sotto di 2-3 tech militari e nonostante io avessi il doppio, il triplo dei loro soldati, alla fine ho dovuto fare una pace bianca, che in sto gioco non è molto conveniente, perché se perdi molti uomini, ti indebiti da far schifo. Alla fine era stata una sconfitta, solo che per fortuna non ho perso niente. Volendo l'avrei potuta continuare quella guerra, perché alla lunga l'avrei potuta vincere, perché nel frattempo gli ottomani non erano entrati, perché mi avevano appena fatto una guerra di coalizione che ho deciso di perdere, ho rilasciato un sacco di stati, tutti questi staterelli schifosi che ero riuscito ad annettere nel corso degli anni, però vabbè intanto me li ero già vassalizzati tutti nel giro di neanche un anno, quindi non era stata una gran perdita. Perché sì, in questo gioco si possono fare guerre di coalizione. Che cosa sono le guerre di coalizione? Allora se tu ti espandi troppo velocemente e troppo aggressivamente, poi guadagni un'espansione aggressiva che non fa mai bene. Adesso ho un'espansione aggressiva dello zero su tutto, perché non mi sono ancora espanso. Però se io mi mettessi ad annettere completamente Milano, no perché non avrei abbastanza world score, ovvero punteggio di guerra. Se mi mettessi ad annettere tre quarti di Milano, poi subito dopo vado contro Genova, gli prendo la Liguria e la Corsica. Genova ovviamente sopravvivrebbe perché avrebbe ancora la Crimea e queste isolette schifose nell'Egeo, ma vabbè. Però queste sono le tre province con più punteggio di guerra per Genova, ovviamente. Sono anche le più sviluppate. Poi vado subito su Lucca, Firenze, tutto, vado anche sulla Provenza, tutto nel giro di 5-6 anni, fai anche 10, capite bene che poi anche gli staterelli schifosi da una provincia, ma anche le grandi potenze dicono, aspetta un attimo, che cazzo stai facendo. E quindi possono farti una coalizione, se superi i 50 punti di espansione aggressiva. E quindi poi diventa un bordello, se poi non hai neanche... hai anche gli alleati che ti tradiscono durante le guerre. Cioè, in questo gioco succede sempre, tranne in multiplayer. Cioè, in multiplayer succede. Però è già un po' più difficile, perché, vabbè, dipende da con chi ti trovi a giocare. Invece con il computer tendono sempre a tradire. Cioè, io mi son trovato sempre con almeno una grande potenza che mi tradiva. E quindi mi trovavo sempre in guerra con la metà o addirittura un terzo degli uomini rispetto al... ai nemici. Vabbè, allora, iniziamo. Allora, abbiamo due mercanti, due diplomatici e una flotta, che però io direi, per adesso, di... Allora, cosa abbiamo? Un mercantile, tre galè e sei trasporti. Allora, il mercantile lo mandiamo a proteggere il commercio. Una merda. Dove mandiamolo a Siviglia? Che abbiamo anche un mercante. Ci migliora un pochino. Invece la flotta con le tre galè e i trasporti la mandiamo a cacciare i pirati. Perché, se no, sti fili puttana ci vengono a razziare le coste e ci fottono un botto di soldi e ci uccidono i marinai che poi andranno a reintegrare le flotte. E quindi capite bene che potremo, avremo molte difficoltà ad andare avanti. Non troppe, ma un po'. E sti stronzi sono sempre marocchini o tunisini. Pirati di merda. Allora, abbiamo anche tre classi, borghesi, clero e nobiltà, come era allora. E bisogna stare attenti a non fare aumentare la loro influenza oltre al 90-100%, perché, se no, sti stronzi decidono bene di... si prendono bene e dicono, bene, prendiamo il potere ciaone. E quindi si ribellano tutti. E sono una rottura di coglioni. Abbiamo visualizzazione delle otto grandi potenze. A sto punto c'è, in questo momento c'è la Lituania che però presto verrà, come ho detto prima, annessa da... cioè cadrà sotto le mani polacche, i timoridi esploderanno, o magari no, dipende, varia da partita a partita. I Ming esplodono, perché dalla version... da quando hanno messo... da un paio di versioni mi sono trovato che i Ming esplodono sempre. Anche prima esplodevano. Però ci mettevano di più. Adesso c'è uno... le orde su a nord che li fanno esplodere. Poi, ottomani che vabbè diventeranno i primi nel... a breve. E anche la Francia. di venire. Francia e ottomani fino al... 600 restano più o meno i primi. Poi arriva anche l'Inghilterra con tutte le colonie, anche la Castiglia, se non esplode. E la Russia arriverà anche dopo la Russia. Allora, direi, innanzitutto... partiamo con il miglioramento delle relazioni. Ecco, infatti la Francia si è già alleata con la Provenza. Quindi direi, se possiamo allearci, anche noi ci alleiamo con la Francia. E direi anche di allearci con l'Imperatore. In quanto noi siamo nell'Impero, almeno fino al 1490, direi dire che ci convenga restare alleati. Però... dobbiamo aspettare... questi stronzi però adesso non ce l'accettano. Quindi miglioriamo le relazioni. direi di spostare innanzitutto questo... no, questo esercito qua nella capitale va bene. Guardiamo il nostro limite di unità. Abbiamo 11 armate e reggimenti su 15 massimi. Sono 8 fanterie e 3 cavallerie. Direi facciamo un bel 4... 10-5. Poi tanto... andando avanti si può ancora aumentare. La flotta... potremmo costruire ancora due navi, ma direi per adesso che abbiamo soltanto Nizza come porto. Ci facciamo andare bene questa flotta. Anzi, volendo, se non ci fossero i pirati bastardi, la smantellerei tutta per guadagnare più soldi. Adesso abbiamo un introito di 0,88. Quindi diciamo che fa abbastanza schifo. Vediamo i mercanti. Se si può migliorare qualcosa, ne abbiamo uno a Champagne che porta giù a Genova. Genova è il nodo principale. Genova e Venezia sono i due nodi più ricchi del mondo a inizio partita. Poi pian piano diventano... ovviamente perdono di importanza quando si scopre il nuovo mondo e... oppure anche quando... quando poi si arriva in India e nei Caraibi. Perché lì c'è un botto di oro e di risorse preziose. e... il nodo di Genova è bello grande. E noi siamo... non siamo neanche i primi cinque. Facciamo abbastanza schifo. Dobbiamo migliorare questa situazione. Dobbiamo... cioè... vabbè, uno schifo. Quindi direi... sì, vabbè... per adesso ce li possiamo andare a fare... ce li possiamo far andare bene, questi due mercanti. Allora... ehm... andiamo a vedere poi... allora le dottrine si sbloccano alla... tech militare... no, la tech... amministrativa. Scherzavo? Cinque. il primo slot, poi... il secondo a sette, il terzo a dieci, poi... e così via. Allora io direi... vado sempre... di... qualità... commerciali... le commerciali le uso più quando uso... quando gioco con le repubbliche. magari con Genova... o con le repubbliche qua del... olandesi... dove... non... magari non voglio fare una partita dove... mi espando... e conquisto tutto il mondo... voglio appuntarla più sul commerciale... diventare il più ricco... e poi magari fare un esercito potente... e... e poi conquistare dopo tutto il mondo. e allora appunto tutto sui mercanti... su... potere commerciale... efficienza commerciale... questa roba qua... adesso con un Ducato... andrei di economiche... vista anche la nostra situazione abbastanza critica... ma tanto si... vedremo dopo se andare prima di qualità... o di economiche. vorrei... vorrei... poter... raggiungere una... una base economica... decente... solo conquistando... sti stati schifosi intorno a me... e quindi doverle... poterle prendere come seconde le economiche... però... vediamo... perché magari... poi potremmo anche prendere... no... le umaniste le prendendo... innovative... anche queste sono utili... però... partendo in Italia... le istituzioni... almeno le prime due... che sarebbero... ora le faccio vedere... qua... allora... la prima... vabbè... il Feudalesimo... che... in Europa... esiste già... ecco... infatti... tutti le... tutti gli stati europei... hanno dato... adottato... il Feudalesimo... soltanto qualche stato in etto... qua... nel... nel sud-est asiatico... e forse qualcuno in Africa... e... i nativi americani... penso che non abbiano... il Feudalesimo... adesso... nel... 1450... in teoria... dovrebbe... ecco... infatti... il 1450... dovrebbe nascere il Rinascimento... che... nasce... di solito... nel... in Italia... cioè... è difficile che nasca da altre parti... però... non impossibile... ho visto... della gente che l'ha fatto nascere... nel... nelle... nella Malesia... cioè... quindi... proprio in posti... inaspettati... però anche quei posti che... sono ricchi anche loro... come stati... fino all'arrivo di inglesi... spagnoli e francesi... che poi li massacrano... vabbè... questi cazzi... e... il... poi... il colonialismo... anche questo... nasce... sempre... o in... Spagna... o Portogallo... a volte anche in Italia... ma... può nascere ovunque... anche perché... il colonialismo... è anche un po' più facile... rispetto al Rinascimento... da adottare... se non sbaglio... perché basta avere anche un porto... una capitale... che sia un porto... se non sbaglio... ora non mi ricordo... poi la macchina da stampa... quella nasce... Nord Europa... e... commercio globale... manifatture... illuminismo... queste tre non le so... non so dove possano nascere... perché... mi sono sempre rotto i coglioni prima di giocare... lo dico sinceramente... o mi sono rotto i coglioni prima... oppure... mi facevano esplodere... con mille guerre... perché... per l'espansione aggressiva... appunto... e... e quindi niente... speriamo con questa serie... di andare... oltre il 1600... spero... allora... e speriamo soprattutto... di non morire subito... perché... c'è... molta probabilità... soprattutto se gioco io... allora niente... direi... ci siamo dilungati troppo... non so neanche da quanto tempo... sto registrando... quindi direi... un attimo... che... che... invece... che... non so... che.... ora... l'esercizio... dice...